Salve a tutti gli amici di Casale Monferrato. Dieci anni fa ho conosciuto un vostro e nostro concittadino, Ferdinand Casa, un vero amico. Sono stato a Casale diverse volte ed è una città che ha saputo sempre accogliermi con tanto calore. Casale oggi accoglie più di 3.000 albanesi, dei quali più di 500 hanno il diritto al voto. È una comunità integrata bene che ha saputo creare un legame forte con la vostra città. Ferdinand è un ragazzo bravissimo, pieno di energia e tanta voglia di fare e di far bene. È un ragazzo che l'impegno preso lo porta fino al fondo. Vorrei invitarvi ad andare a votare il 26 maggio appoggiando Luca Giannola, candidato sindaco con il progetto Casale nel cuore e il candidato consigliere del PD, il nostro Ferdinand Casa. Noi abbiamo bisogno di città smart, ecologiche, vivibili e più sicure. Buone elezioni a tutti i cittadini di Casale e un saluto affettuoso. Forza!